Sulla scia dell'entusiasmo che ha coinvolto tutti, approfittiamo della presenza del primo cittadino di Rivarolo per realizzare un video tutorial informativo per mostrare quelli che sono i passaggi chiave per conferire correttamente. Il primo cittadino Alberto ha in questo momento in mano una bottiglia di HDPE e si accinge a conferire, schiaccia il pulsante verde, la macchina ci dice che sta iniziando il conferimento senza tessera, Alberto conferisce l'HDPE, il contenitore di detersivi, dentro lo sportellino che li riceve e stampa lo scontrino dell'avvenuto conferimento. La macchina dice che l'operazione è terminata e stampa lo scontrino che rilascia gli ecopunti. Con lo stesso criterio gli facciamo conferire nel lato relativo alle bottiglie dell'acqua la bottiglia, per cui schiaccia il pulsante verde, inizia il conferimento, parte il video tutorial che tra l'altro sul quale potete vedere anche tutti i passaggi video, inizia il conferimento, a questo punto la macchina ci dice che ha conferito un pezzo, il sindaco rischiaccia e l'operazione è terminata e ritira allo stesso modo l'ecopunto che gli darà l'opportunità di usufruire degli sconti con le attività convenzionate sul territorio.